A quasi dieci mesi dall'inizio del conflitto in Ucraina si fa sempre più drammatica la condizione della popolazione locale. In quei territori si continua a morire di fame e sete e ora anche di freddo. Il conflitto si sta allargando e la crisi umanitaria peggiora di giorno in giorno. A lanciare un nuovo disperato appello il presidente dell'associazione Kerigma, Sergio Dascenzo, appena rientrato in Italia dall'Ucraina e che ha registrato negli ultimi mesi un netto calo delle donazioni alla sua organizzazione che da tempo è in prima linea per fornire aiuti e assistenza. Sono tornato dall'Ucraina in questi giorni, non riesco a dimenticare le facce, i rumori, le bombe, i mortai, la distruzione, la fame, la disperazione, le lacrime. Non ci riesco. Sono stato nella zona di Kherson in particolare, praticamente a un'ora dal mare, dal Mar Nero, dal tanto conteso accesso a quelle acque, a quei trasporti commerciali. Nikolaev, i paesini della periferia completamente distrutti da truppe accanite, non si sa bene contro che cosa, contro quali nemici. Bambini che non mangiavano da giorni, ci siamo organizzati con della pizza congelata da poter cuocere sul momento per dargli qualcosa di caldo, una speranza in qualche modo nuova. Persone disperate sul posto che cercano di non mollare, di sopravvivere. Ragazzi che giocano con qualcosa che assomiglia a un pallone, mentre si sentono sulle loro teste mortai. Ecco, questi noi vogliamo continuare ad aiutarli. Oltre ai generi alimentari e di prima necessità, occorrono anche i fondi per l'acquisto di carburante per i mezzi. Il magazzino per le donazioni alla Gammarana a Teramo è aperto il lunedì dalle ore 15 alle 20. Vogliamo continuare a raccogliere aiuti, vogliamo raccogliere il vostro piccolo sostegno, grande che sia. Lo continueremo a fare ogni lunedì alla Gammarana, al nostro magazzino, a fianco alla pizzeria La Stazione, insieme con il comune di Teramo. Vogliamo raccogliere qualunque cosa, soprattutto cibo e scatola, farmaci, riso, piccole donazioni che ci permettono di pagare i tir, ci permettono di continuare ad andare ad aiutarli e dare loro una speranza, sperando che questa vergogna finisca presto. Aiutateci ad aiutare, è un dramma incredibile. Grazie a tutti.